È stato uno degli imputatori leader nella rivoluzione dei personal computer. Forbes lo include costantemente tra le persone più ricche al mondo. È il secondo filantropo più generoso d'America, con oltre 28 miliardi di dollari dati in beneficenza. Lui è Bill Gates e queste sono le sue dieci regole per il successo. Dobbiamo davvero pensare che Internet diventi molto popolare, che le persone lo usino e che siano disposte a pagare per dei contenuti. Ognuno di questi business è imprenditoria. Il tema comune è che sì, credo in Internet e credo che diventerà molto popolare e stiamo facendo delle cose nuove per poterne approfittare quando succederà. Beh, siamo imprenditori perché vogliamo guadagnare. In realtà è tutto degli shareholders. Non siamo dilettanti, siamo imprenditori. È vero che se trovi un'idea che ha bisogno di 3-4 anni di lavoro per essere rifinita, serve pazienza, e noi siamo molto bravi in questo. Prendi Windows, per esempio. Tutti quelli che dubitavano che potesse avere successo, IBM non ci supportava, ci ha voluto molto più del previsto, quasi 4 anni prima che una nostra interfaccia grafica diventasse popolare. Invece adesso la gente dà per scontato che ci sia. È parte di ogni PC e ci si aspetta che sia lì. Questo è stato il più grande successo della compagnia. Allo stesso modo stiamo scommettendo su Internet. Speriamo che i nostri tool diventino popolari e che un paio di questi contenuti che abbiamo deciso di supportare, che gli utenti li trasformino in un grande business. Voglio ringraziare Harvard per questo onore. Cambierò lavoro l'anno prossimo e sarà bello avere finalmente una laurea sul mio curriculum. Mi congratulo con i laureandi per aver intrapreso una strada più diretta con i vostri studi. Da parte mia sono solo felice che Crimson mi abbia chiamato la persona più di successo che abbia mai abbandonato Harvard. Immagino che questo mi renda primo della classe, in una classe tutta mia. Sono stato il migliore di tutti quelli che non sono riusciti a laurearsi. Ma vorrei essere ricordato come il ragazzo che ha convinto Steve Ballmer ad abbandonare la scuola di economia. Sono una cattiva influenza. Per questo mi hanno invitato a parlare alla vostra laurea. Se avessi parlato all'orientamento, forse oggi sareste meno di quelli che siete. Ho un sacco di riunioni, la mia agenda è piena e la sera, dopo che i bambini vanno a dormire, scrivo un sacco di e-mail. Ricevo messaggi tutto il giorno. Quello è l'unico momento che ho per dare risposte lunghe. Anche nei fine settimana mando molte e-mail. Mi prendo due settimane di vacanza all'anno solo per leggere e pensare senza essere interrotto dal lavoro o altro. Mi impegno a pensare al futuro e le persone possono mandarmi cose da leggere in questa settimana che chiamiamo Settimana del pensiero. Quindi è un bel mix di cose. Circa il 25% del tempo lo passo in giro. Viaggio per incontrare clienti in Europa o Asia e in qualche modo mi aiuta a pensare. Abbiamo scelto le priorità giuste? Cosa sta avendo buoni risultati tra la gente? Cosa vorrebbero che facessimo meglio? Ciao, sono Bill Gates, fondatore di Microsoft. In questo video vedrete il futuro, Windows. Microsoft ha proposto il concept di Windows per la prima volta nel 1983 e oggi i principali utenti di software sono passati all'uso di Windows. È incredibile quanto velocemente le nostre applicazioni come Word, Excel o PowerPoint siano state adottate. E non solo dalla Microsoft, anche aziende come WordPerfect e Lotus adesso hanno iniziato ad usare le applicazioni Windows. Ogni settimana vediamo nuovi progetti innovativi. È davvero bello vedere tutta questa innovazione. Lo abbiamo predetto molto tempo fa e adesso siamo nel futuro. Sì, abbiamo avuto molti tipi di concorrenza negli anni e Linux sta acquisendo popolarità ed è decisamente parte della concorrenza. Lo prendiamo molto sul serio. Penso che parte del successo di Microsoft sia dovuto al fatto che non sottovalutiamo mai l'importanza del lavoro delle altre imprese. Quindi ci guardiamo intorno e ci chiediamo ci sono degli aspetti che possiamo migliorare? Per esempio, il supporto online e tutto quello che riguarda le community su Linux sono fatti molto bene. Ci pensiamo e ci assicuriamo che le nostre innovazioni siano valide e la nostra leadership nel settore continui. Parlo con mio padre, con Warren, con mia moglie Melinda quindi ho abbastanza persone intorno che mi conoscono e sanno quando il mio giudizio può non essere il migliore quando mi lascio prendere la mano o mi dimentico qualcosa. Quindi sono bravi a correggermi. Un po' fastidiosi, ma bravi ad aiutarmi a capire quali sono i miei punti ciechi. Credo sia giusto incoraggiare gli amici e i consiglieri ed autorizzarli a comportarsi così. Per esempio, potrei andare a una festa e dimenticarmi di salutare delle persone o qualcosa del genere. È un esempio molto piccolo delle cose che dimentico. Melinda mi aiuterebbe in questo. Certo, lo farebbe. Avere un piccolo gruppo di persone sulle quali puoi contare per determinate cose è sicuramente un vantaggio. Le migliori decisioni che prendo al lavoro sono sicuramente quelle che riguardano la scelta delle persone. Decidere di entrare in affari con Paul Allen è probabilmente la migliore in assoluto. Poi l'aver assunto un amico, Steve Ballmer. Ed avere qualcuno di cui ti fidi al 100%, che è impegnato al 100%, che condivide la tua visione delle cose e che però ha delle skills un po' diverse dalle tue e quindi può controllarti in qualche modo. Se hai un'idea, gliela proponi, perché sai che ti diranno «Aspetta, hai pensato a questa cosa?». Il beneficio di poter collaborare con una persona così brillante non solo ha reso tutto più divertente, ma ci ha anche portati ad avere il successo che abbiamo. Quindi scegliere i tuoi partner è cruciale. Quando ero giovane, i computer erano davvero costosi ed io e il mio amico Paul Allen entravamo di nascosto all'Università di Washington dove c'erano dei computer liberi, di notte. Eravamo affascinati dalle potenzialità del computer, quello che poteva fare, ma pochissime persone riuscivano a vedere dei computer. Eravamo fortunati a poterli usare. E quindi l'idea di muovere il computer in un chip che sarebbe stato prodotto da Intel e avrebbe reso il computer davvero milioni di volte più economico rispetto a quelli che usavamo noi. Quindi sia più potenti che più diffusi tra tutte le persone, a livello personale. Poi c'è stata l'idea. Ok, il software di cui hai bisogno dovrebbe essere molto diverso, il modo in cui dovrebbe funzionare. Siamo stati davvero fortunati ad essere lì quando questa cosa stava succedendo. Sapevano che ero ossessionato dai computer, che saltavo le lezioni di ginnastica, che entravo all'università di notte, che uscivo di casa per andare a lavorare su queste cose. Quindi lo consideravano un po' strano, ma il punto di svolta è stato quando ho detto che invece che finire l'ultimo anno di scuola, sarei andato a lavorare per un'azienda di software. Sono stati fantastici, mi hanno permesso che diventasse il mio hobby. Avevo un'abitudine quando ero al college ed era una pessima abitudine. Mi piaceva mostrare alle persone il fatto che non facessi nulla. Non andavo a lezione, non mi importava. E poi, all'ultimo secondo, due giorni prima dell'esame, mi iniziavo ad impegnare. Le persone pensavano che fosse divertente. Era il mio personaggio. Ero il ragazzo che fa tutto all'ultimo secondo. Poi, quando ho iniziato il mio business, mi sono accorto di quanto fosse una cattiva abitudine. Ci sono voluti un paio d'anni per farmela passare. Nessuno mi diceva più che ero bravo per come riuscivo a fare tutto all'ultimo secondo. Ho notato anche il contrario. C'erano studenti di cui non avevo un'ottima opinione, ma loro erano sempre organizzati e facevano tutto per tempo. Ci sto ancora lavorando. La procrastinazione non è una buona abitudine. Se chiedete alle persone negli Stati Uniti il futuro sarà migliore del passato, la maggior parte vi risponderà di no. I miei figli staranno peggio di come sto io. Allo stesso tempo si pensa che l'innovazione renderà il mondo un posto migliore. Allora chi ha ragione? Quelli che dicono che l'innovazione creerà delle nuove possibilità e renderà il mondo un posto migliore? Oppure quelli che dicono di vedere un trend crescente verso l'ineguaglianza e non credono che l'innovazione lo cambierà? I pessimisti hanno torto, secondo me, ma non sono pazzi. L'innovazione è guidata solamente dal mercato. Se non ci concentriamo sulle grandi disuguaglianze potremmo avere un tipo di innovazione che lascerà il mondo sempre più diviso. Non miglioreremo le scuole pubbliche. Non cureremo la malaria. Non metteremo fine alla povertà. Non svilupperemo l'innovazione di cui i contadini hanno bisogno per crescere cibo in questo clima che sta cambiando. Se il nostro ottimismo non cerca di risolvere i problemi che affliggono così tanti esseri umani, allora il nostro ottimismo ha bisogno di più empatia. Se l'empatia riesce a indirizzare il nostro ottimismo, vedremo la povertà, le malattie, e le risolveremo con le nostre innovazioni. E così sorprenderemo i pessimisti. Nella prossima generazione, voi, laureati a Stanford, guiderete una nuova ondata di innovazioni. Quali problemi deciderete di risolvere? Se espandete i vostri orizzonti, potete creare il futuro che tutti vogliamo. Se i vostri orizzonti sono limitati, potreste creare il futuro di cui i pessimisti hanno paura. Ho imparato in Soweto che se vogliamo fare in modo che il nostro ottimismo coinvolga tutti e riconoscere e rafforzare le comunità in ogni parte del mondo, dobbiamo iniziare a vedere le vite delle persone in situazioni di necessità. Se abbiamo l'ottimismo, senza empatia, non importa quanto riusciremo a capire i segreti della scienza, non risolveremo mai alcun problema. Stiamo solo risolvendo degli indovinelli. Credo che la maggior parte di voi abbia una visione del mondo ampia, più di quanto l'avessi io alla vostra età. Potete essere migliori di me in questo. Se vi impegnate, potete risolvere questi problemi. Potete sorprendere i pessimisti. E noi non vediamo l'ora di vedervelo fare. E noi non vediamo l'ora di vedere. E noi non vediamo l'ora di vediamo l'ora di vedere. Grazie per la visione!